Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10. L'apertura del notiziario è dedicata all'avvertenza Gera. L'amministrazione comunale ribadisce di avere coinvolto gli enti nazionali, tra cui in vitali al fine di risolvere la vicenda che interessa il comparto industriale. Il sindaco Domenico Messinese evidenzia la latitanza del governo regionale, soprattutto del presidente Rosario Crocetta. Sentiamo. L'avvertenza Gela è costantemente eseguita con particolare attenzione da parte della giunta comunale. Non può dirsi la stessa cosa del governo regionale presieduto dal gelese Rosario Crocetta. Se molti progetti sono fermi, la responsabilità è solo del governatore. Parla chiaro, senza giri di parole, il sindaco Domenico Messinese e l'indice accusatorio è puntato all'indirizzo di Crocetta e non solo. In vitalia di fatto è fermo perché c'è una delibera di giunta ferma da oltre tre mesi che va a definire la perimetrazione. I soldi delle compensazioni non si spendono perché il presidente della regione, Rosario Crocetta, non si riesce a trovare. Fra le altre cose quasi 20 milioni di euro sono stati già definiti insieme ai capi gruppo del Consiglio Comunale. Ma il problema non è solo esclusivamente a livello industriale, che forse è quello più evidente, ma anche a livello sanitario. Io vorrei ricordare che il pronto soccorso non si apre, ci sono responsabilità del presidente della regione, l'Unti non si apre di responsabilità del presidente della regione, la Besti Unit non si apre di responsabilità del presidente della regione, gli organici sono insufficienti di responsabilità del presidente della regione. È inutile additare al dottor Iagona, che è il quale d'altronde è stato messo là, ma se non vengono date le risorse, di fatto sicuramente non può dare le risposte. Qui è un problema politico ben chiaro. Io ricordo che siamo all'interno di un'area di crisi complessa, che è stata certificata. Siamo in un'area di crisi a livello ambientale, ma di fatto non viene fatto nulla, c'è un immobilismo totale. Quindi il presidente Crocetta, che venga qui a Gela a firmare tutti quei documenti che sbloccheranno tutta una serie di attività e danno ristoro immediato al territorio e che possono dargli un futuro reale. È inutile che giochiamo a Rimpiattino, andando a fare dei congressi del PD, dove praticamente si cerca di scaricare a questa amministrazione, quando in realtà i problemi più grossi sono a livello regionale e nazionale, dove vorrei ricordare, che sono rappresentati dal PD o dalle forze che lo sostengono. E questo è estremamente grave. Prima di poter cercare un capo espetorio, che sicuramente non è l'amministrazione che ha sempre mostrato di fare gli interessi di tutti i cittadini gelesi, non di parte, non di partito e nemmeno di lobby, e che quindi praticamente fa gli interessi di tutta la collettività, cortesemente che vadano a sollecitare i propri rappresentanti a muoversi per poter fare qualcosa per la città e non per essere i mandanti come Renzi nella distruzione della città di Gela e trovare degli esecutori come il presidente della regione Rosario Crocetta insieme all'ex sindaco, che di fatti hanno consegnato questa città in una situazione pietosa. Il vice sindaco Simone Siciliano è intervenuto sugli aspetti tecnici che riguardano la vertenza Eni. La vertenza Gela è una vertenza a carattere ministeriale, lo è perché questa amministrazione ha portato nel tavolo del Ministero di Sviluppo Economico la bozza di accordi di programma in essere, la vertenza quindi diventa nazionale e discussa nei tavoli in cui i quattro ministeri fondamentali possono trattarla e possono risolverla. In questa trattazione, spesso e volentieri, si notano le inerzie burocratiche tipiche di una regione che fatica a decollare e nello specifico l'accordo di programma subisce un rallentamento proprio perché in giunta regionale la delibera di perimetrazione dell'area su cui l'amministrazione assieme ai dirigenti, quindi ai funzionari della regione e al Ministero di Sviluppo Economico di concerto con Invitale ha lavorato e quindi rimane ferma in attesa che la giunta regionale la firmi e possa consentire a Invitale di destinare le somme che afferiscono a carico della regione rispetto a quelle che afferiscono a carico del governo centrale per contrastare la crisi gelese. E domani una delegazione del coordinamento donne per il territorio partirà per Roma per incontrare la Presidente della Camera, Laura Boldrini, il Presidente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati Ermetere Alacci e il Presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati Cesare Damiano. Obiettivo quello di portare alla ribalta nazionale la vicenda Gela evidenziando agli organi competenti la crisi occupazionale e complessiva del territorio e chiedendo l'attuazione di politiche di sostegno volte al mantenimento degli accordi intrapresi nei mesi scorsi e allo sviluppo di nuovi settori di investimento che coinvolgano e promuovano le risorse di cui Gela dispone. Sette le donne che partiranno per la capitale autofinanziandosi per coprire le spese necessarie. La situazione che stiamo vivendo afferma la portavoce del coordinamento Luciana Carfi presenta un livello di criticità elevato. Molta gente è stanca di lottare per i propri diritti e finisce per arrendersi. Questo non deve accadere, occorre oggi più che mai fare uno sforzo collettivo. Questo coordinamento è nato con l'intento di promuovere l'associazionismo di mandare un messaggio di unità e sinergia abbattendo la visione individualistica a cui la politica ci ha abituati. Da parte nostra ci sono l'impegno e la grinta necessari. Siamo fiduciose che il messaggio venga recepito. Adesso parliamo del giubileo degli ammalati, dei disabili e delle associazioni di volontariato presenti nel territorio diocesano che si è svolto a Gela. Presente il vescovo della diocesi di Piazza Armerina Monsignor Rosario Gisana. Vediamo. Per la prima volta nella diocesi di Piazza Armerina associazioni di volontariato si sono riunite tutte assieme nell'ambito del giubileo degli ammalati e dei disabili appuntamento a Gela. Con i propri labari e le proprie divise hanno accolto l'icona della graziosa vergine degli ammalati che ha dato inizio alla devozione della Madonna delle Grazie venerata nella chiesa dei Cappuccini. Questo giubileo certo che si aggiunge agli altri giubilei che abbiamo già celebrato ancora qualcuno è da celebrare ma certo questo che mette al centro l'ammalato credo che sia il più importante adesso senza voler fare nessun tipo di confronto perché partirei da quello che Gesù in qualche modo nella sua pastorale ha evidenziato il malato, il povero, il misero è davvero il motivo centrale del suo annuncio della predicazione del Regno e certo a questo si aggiunge chiaramente alla presenza di tutte le associazioni di volontariato perché l'amore è gratuito e quando noi disseminiamo amore attorno a noi con gesti di accoglienza, di solidarietà ecco che allora diciamo si esprime un volontariato che sempre più diventa solido e che a mio parere sosterrà anche l'impegno di tutte le varie istituzioni tra cui certamente anche quelle ecclesiastiche ecco ma l'ammalato vi chiede soltanto un gesto di solidarietà un gesto di altruismo o vi chiede qualcos'altro? Beh, quando noi parliamo di solidarietà intentiamo certamente questo impegno come dice Paolo di portare l'uno i pesi degli altri è chiaro che qui per solidarietà e il volontariato avrebbe anche questo significato è quello di farsi carico e di farsi carico alla maniera samaritana cioè portando il peso dell'altro ma fino alla diciamo così perfetta condivisione e se possibile rilancio dell'esistenza dell'altro L'iniziativa si è svolta con il pellegrinaggio giubilare e si è conclusa nella parrocchia di San Sebastiano con la celebrazione eucaristica Indagini sono state avviate a Gela a seguito dell'incendio che si è sviluppato la notte di sabato scorsa a Settefarine le fiamme hanno interessato la sala cinesca di un'autoscuola gestita dalla famiglia italiana i roghi notturni sono ripresi con intensità soprattutto negli ultimi giorni i titolari comunque escludono che si possa trattare di un avvertimento a scopo intimidatorio Un dito ustionato e tanta paura per un sedicenne gelese il ragazzo ieri pomeriggio stava effettuando il rifornimento del proprio motorino in una stazione di servizio sulla Gela Manfria quando è stato raggiunto da una fiammata il giovane è stato immediatamente portato in ospedale non è da escludere che la fiammata sia stata causata da un accendino utilizzato dal giovane mentre era intento a fare rifornimento 34esima edizione del premio letterario nazionale Terra d'Agavi ideato e organizzato dal Rotary International Club di Gela presieduto dall'avvocato Gualtiero Cataldo c'eravamo anche noi vediamo una cerimonia una cerimonia sobria ed elegante onusta di profonde emozioni ha dato vita alla conclusione della 34esima edizione del premio letterario nazionale Terra d'Agavi ideato e organizzato dal Rotary International Club di Gela presieduto dall'avvocato Gualtiero Cataldo un bilancio decisamente positivo per l'aspetto della continuità che siamo riusciti a dare al premio e per l'aspetto della particolare riuscita della serata a livello locale sicuramente è il premio più antico ancora attivo e ci crediamo e ci diamo da fare perché continua a essere per i prossimi anni il fiore all'occhiello del Rotary e uno dei fiori all'occhiello della nostra città di Gela abbiamo sempre storicamente avuto dei presidenti delle commissioni che sono stati sempre o sono diventati degli scrittori famosi abbiamo avuto Leonardo Scias abbiamo avuto altri nomi decisamente famosi quest'anno nella tradizione abbiamo scelto una scrittrice che interpretava la sicilianità all'interno della pinacoteca di Gela hanno trovato spazio una scenografia a tema in linea con la denominazione dell'evento e le note straordinarie eseguite al pianoforte dal giovane talento gelese Sara Casa a presiedere la commissione che ha valutato le circa 80 opere letterarie giunte da tutto il territorio nazionale la nota scrittrice Cristina Cassarscalia l'autrice più letta in Sicilia nel 2015 un premio letterario è sempre qualcosa di molto importante poi un premio letterario che esiste da 34 anni che ha visto susseguirsi tutti questi scrittori questi poeti credo che diventi ancora più importante quindi questa diciamo la parte più più sì è la parte più interessante anche la parte più più che dà più responsabilità senza dubbio l'esanza dello scirocco la consacrata come scrittrice alla ribalta nazionale da dove è nata l'ispirazione di questo romanzo l'ispirazione di questo romanzo è nata dal beh dove essere un romanzo siciliano è nato sullo stretto è nato sullo stretto di Messina proprio in uno dei tanti viaggi che tutti noi siamo abituati a fare e che finiscono sempre concludono sempre con lo stretto di Messina ero proprio lì ho iniziato ho scritto l'incipit lì l'ho vergato proprio lì ed è rimasto sempre uguale poi doveva essere un libro che raccontasse la Sicilia la Sicilia di un'epoca un po' diversa dalla nostra forse l'ultima delle epoche antiche un po' l'ultima epoca in cui la Sicilia soprattutto i paesi della Sicilia si sono discostati sia dal punto di vista della della mentalità della cultura e anche delle abitudini dalle città del nord Italia che era l'inizio del 1968 sentiamo ai nostri microfoni la commozione e la gioia dei vincitori sono tre le sezioni previste per il concorso letterario terra d'agavi giunto alla sua 34esima edizione sezione poesie inedite in lingua siciliana sezione poesie in lingua italiana edita in volume infine racconti in lingua italiana editi in volume i vincitori delle tre categorie hanno ritirato i premi tra gioia e commozione Orazio Minnella di tre mestieri etneo premio poesie inedite in lingua siciliana io sono fra l'altro oltre che non mi definisco un poeta soltanto uno scrivacchino ma ho anche un'altra grande passione sono fotografo sempre amatoriale in una di quelle mattine che mi trovavo ad aciderezza durante la scuola mentre venivo vedevo soggiare il sole mi è venuta l'ispirazione di questa poesia ho scritto tante poesie più di principalmente sonette ne avevo scritto più di 200 ma sto portando avanti un'opera un pochettino titanica sto scrivendo tutto il Vangelo anno a anno e anno c tutti i tre anni anni liturgici tutti quanti in sonette Giuseppe Melardi di Bronte il vincitore sezione poesie in lingua italiana edita in volume la sua raccolta schegge di poesie in italiano si aggiudica il primo premio per la sua sezione da dove è nata l'ispirazione di questa opera e a chi dedica questo premio domande difficili perché fino ad ora io non ho scritto mai per gli altri sono stati gli altri che mi hanno detto mostra i tuoi scritti non saprei a chi dedicarlo lo dedico a me stesso per la sezione narrativa romanzo edito in lingua italiana ha vinto il premio Romano Nigiani di Viereggio un romanzo dedicato al dramma del muro di Berlino dal 1961 lei racconta questo dramma con un romanzo che si aggiudica il primo premio per la sua sezione per la sezione narrativa al premio Terra d'Agavi a chi dedica questo premio e da dove è nata l'idea e beh l'idea diciamo io la ho vissuto molti anni in Germania come dicevo avanti 46 anni dalla Germania poi sono stato inviato in tutte le parti del mondo ho lavorato in Sud America in Asia nell'Arabia Saudita ho cominciato a scrivere come per mettere un margine ai fiumi dei ricordi ho vissuto in Germania a Berlino e consapevole come il resto del mondo sono stato testimone di questa tragedia europea praticamente ricordo il giorno che iniziarono a ereggere tra la sorpresa mondiale tutto il mondo si domandava cosa sta succedendo no? è un breve passaggio di una tragedia che è durata 28 anni a chi dedica questo libro? beh io direi quasi lo dedicherei quasi al Rotary Club con molto affetto perché io so ho partecipato in Sud America in Bolivia in Perù in Brasile so quello da opera che stanno facendo i Rotary nel mondo deve rispondere di atti persecutori il mazzarinese di 50 anni arrestato dai carabinieri nell'ultimo mese si è reso protagonista di una condotta profondamente minatoria nei confronti della vicina di casa a tal punto da generare nella donna un grave stato d'ansia che l'ha costretta a cambiare la quotidianità della propria vita nella prima fase delle minacce la vittima si era rivolta ai militari dell'arma presentando una denuncia nei confronti dell'uomo dopo aver attentamente monitorato la situazione i carabinieri hanno scongiurato l'ennesimo episodio di aggressione l'uomo infatti si era recato dalla vittima cercando di entrare in casa e nel tentativo di sfondare la porta si era anche ferito alla mano i militari quindi hanno bloccato lo stalker che in evidente stato di agitazione è stato trasferito presso l'ospedale di Mazzarino e successivamente ricoverato presso il reparto psichiatria del nosocomio di Gela l'arrestato adesso è piantonato dai carabinieri in conclusione della prima parte del nostro telegiornale vi ricordiamo l'appuntamento questa sera alle ore 21 con 10 domande 10 ospite del nostro direttore Giuseppe Donchia sarà Valeria Caci presidente dell'associazione Il Tempo di Apollo le repliche sono previste alla mezzanotte domenica prossima alle 18 ci fermiamo c'è la pubblicità torniamo tra poco restate con noi bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale che apriamo con un servizio dedicato all'incontro sulle politiche familiari nutrire la famiglia vediamo si è svolto presso l'auditorium Virgilio Argento del plesso scolastico Paolo Emiliani Giudici un incontro sulle politiche familiari nutrire la famiglia in questo percorso che ha abbracciato l'intero anno scolastico in cui sono intervenuti personaggi importantissimi e che si sarebbe concluso col Vescovo devo dire che in verità oltre al Vescovo oggi siamo felici e onorati di essere stati scelti come scuola da personaggi importanti delle politiche religiose e che abbiano scelto proprio la San Francesco ci riempie di orgoglio Onorevole negli ultimi dieci anni si assiste ad un cambiamento sostanziale delle famiglie dei nuclei familiari qual è stato l'approccio della politica nella considerazione di questo cambiamento la famiglia ha un ruolo importantissimo la famiglia ha il ruolo di educare i figli ed educare i figli è il mestiere più difficile del mondo la famiglia dovrebbe funzionare come un ensemble ognuno per conto suo però l'armonia deve essere unica e questo è quello a cui si deve tendere a prescindere che la famiglia sia unita come coppia che c'è stato diciamo la benedizione della chiesa o che sia una coppia di fatto così come l'ultima legge che è intervenuta cioè non cambia il fatto che sia intervenuta la politica e che abbia permesso altre forme diciamo che la cosa più importante è il funzionamento perché dal funzionamento dipende poi l'altra cosa più importante il mestiere più difficile la famiglia è la cellula fondamentale dell'educazione questo è stato nei tempi passati ma ancora adesso ha questa grandissima funzione quindi diciamo che la famiglia rimane l'elemento che educa principalmente i futuri cittadini della nostra città è chiaro che abbinata con la scuola che invece fa un ruolo di istruire di dare quegli alimenti che servono a completare il bagaglio culturale dei nostri ragazzi diventa una cosa importante quello che invece è importante sottolineare è che ci sono tutta una serie di attacchi esterni che stanno sgretolando la famiglia vista in modo classico mi piace pensare alla famiglia come il germoglio della civiltà e quindi proprio là che poi inizia il percorso il bambino che da grande diventerà adulto e cittadino responsabile quindi le politiche sociali le politiche scolassiche devono essere proprio centrate sulla possibilità di far germogliare in maniera ancora più copiosa se possibile i germogli che sono rappresentati dai bambini il 17 e il 18 giugno prossimi presso l'auditorium del presidio ospedaliero Vittorio Emanuele Di Gela si terrà un seminario di studi sulla gestione dei centri di accoglienza per immigrati preseduto da Vincenzo Cascio direttore scientifico in collaborazione con la fondazione Antonietta e Salvatore Aldisio con questo seminario ci si prefigge di fornire agli operatori sociosanitari gli strumenti pratici e le strategie applicative che consentono di gestire comunità quali centri di accoglienza per immigrati nelle diverse aree di convergenza psicosociale e l'area sanitaria il seminario patorcinato dall'ordine professionale degli assistenti sociali della regione siciliana consentirà ai partecipanti l'acquisizione di crediti formativi professionali adesso parliamo del campus estivo promosso dall'Accademia delle Arti Sceniche di Macchitella vediamo Open Day al campus di Macchitella il movimento giovanile si dà da fare giorno 27 cominceranno le attività quali sono le novità rispetto all'anno precedente? avremo a disposizione una serie di tecnici specializzati per ogni attività ludica e ovviamente terremo i nostri ragazzi anche per intere giornate due volte a settimana con l'intermezzo di un pranzo un campus è una formula davvero diversa una formula in cui i nostri giovani possono davvero ricevere una formazione importante ed è questa forse la differenza con gli altri campus come saranno articolate le attività e quanto dureranno? le attività saranno strutturate dal lunedì al venerdì tutti i giorni con martedì e giovedì intere giornate col pranzo incluso e ci saranno i nostri tecnici e i nostri animatori che faranno divertire i ragazzi e li educeranno ai principi ai valori giorno 27 cominceranno le attività ma è possibile iscriversi fino a quando? noi le iscrizioni per i bambini le abbiamo già aperte con delle preiscrizioni che hanno la preiscrizione dietro al volantino il volantino è di presentazione basta girarlo per la preiscrizione per quelle degli animatori cominceremo dal lunedì della prossima settimana teatro sotto le stelle all'antidoto di Gela tutti gli spettacoli si terranno all'aperto si comincia venerdì 24 giugno alle 21.30 con attenti a quei due della compagnia antidoto la rassegna si concluderà a settembre l'ingresso di 5 euro a coppia prevista anche l'esibizione di Giobbe Covatta è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito fin qui e avere preferito la nostra informazione vi ricordiamo che servizi notizie e approfondimenti sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it vi ricordiamo inoltre che il nostro televideo è sempre aggiornato buon inizio settimana a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti